Purificazione Qual è la funzione dei cosiddetti maestri del karma? Commento La funzione dei maestri del karma, che sono coscienze più evolute di noi, è quella di preparare i corpi fluidici dell'incarnando alle limitazioni che dovrà superare. Ogni limitazione, ogni tendenza, ogni atteggiamento, buono o cattivo, è una corrente di energia. Quando noi vediamo che una persona che conosciamo bene cambia di molto il suo atteggiamento di vita, questo avviene raramente, è segno che questa persona è stata per lungo tempo conscia delle limitazioni su cui lavorava e di conseguenza ha fatto grandi progressi spirituali e il processo di purificazione per cui avviene ogni incarnazione.